condivido un pensiero bellissimo, sto tornando da una bellissima sessione di nuoto, ho fatto un sacco di vasche e io stavo ferma da più di 5 anni col nuoto e quindi è una riscoperta e il pensiero bellissimo che ho avuto quando adesso stavo tornando in macchina a casa è stato che ho passato tantissimi anni della mia vita a criticare un po' tutto il mio corpo guarda qui, questo non va, questo non va, questo non va e non so che cosa sia successo ultimamente, forse con l'età mi sono resa conto che devo ringraziare questo corpo perché mi fa fare quello che voglio, non si è mala, è reattivo, subisce i miei ritmi folli, notte, giorno insomma delle cose senza senso, mangiare, mangiare male, mangiare di più, mangiare di meno insomma ho un corpo che è una macchina veramente fantastica e me ne sto rendendo conto anche nei momenti in cui magari sto male e lui in qualche modo cerca di tirarmi su e io ne vengo fuori quindi quello su cui riflettevo prima mentre tornavo a casa è il fatto che questo andare in piscina andare in palestra, io non li vedo tanto come mantenermi in forma piuttosto li vedo come portare il mio corpo a giocare cioè ecco, io vedo in questi gesti aleee dai corpicino andiamo a giocare e lo porto in piscina e poi dico dai andiamo in palestra a giocare un po' con i paesini e andiamo in palestra e poi stessa cosa, facciamo una corsetta e lo porto a correre cosa cambia secondo me di questo modo di intendere le cose? è che diventa un premio cioè non diventa più un devo farlo perché fa bene no, devo farlo perché lo porto a divertirsi e questa è la cosa bellissima quindi magari tu mi dirai a me fa schifo nuotare, a me fa schifo andare in palestra a me fa schifo correre allora ti dirò la verità a me correre non piace o meglio piace quando finisco quando finisco sono felicissima però è un po' come dire guarda Sergio nome a caso è una persona stupenda perché ogni volta che ci vediamo poi quando me ne vado quando lui se ne va via io sono felicissimo perché se ne sta andando via cioè non è proprio il modo per dire che qualcosa ti piace quindi per esempio la corsa per me è qualcosa che mi mette ansia nel senso dopo 20 minuti io sono lì che boccheggio sto male non ne posso più voglio tornare a casa allora faccio una sfida con me stessa dico devo continuare e infatti poi alla fine smetto di correre perché è una sofferenza comincio a soffrire già prima di andare figuriamoci invece il nuoto proprio io mi metto lì comincio a fare le mie vasche le conto penso vado avanti e vado avanti fino a 100 e oltre ed è bellissimo quindi tutto questo messaggio per dirti due cose la prima è premia il tuo corpo perché se sei qui che vedi questo video vuol dire che sei vivo e in qualche modo fino alla tua età il tuo corpo ti è venuto incontro ha accettato tutti i magari modi che hai utilizzato con lui non sempre belli magari non l'hai sempre dato da mangiare benissimo magari hai fumato magari hai esagerato con qualche vizio non ti sei mossa abbastanza eppure sei qui che mi ascolti quindi anche se hai dei dolori anche se hai qualcosa ringrazio perché se lo merita e poi farlo giocare con qualcosa il pianoforte può essere un'ottima idea cioè il pianoforte è un gioco e lo porti lì e lo muovi e lo metti in armonia con la tua testa ma così come per me la corsa è qualcosa che non funziona o anche i corsi di aerobica con i corsi che si fanno in sala per carità sto già male solo a pensarci sto malissimo devo starmi stare e e devo restarmi stare di nuovo no forse no così per te se il pianoforte vedi che non ti dà soddisfazione puoi provare anche con meno male che ho detto che il mio corpo mi ho i capelli bagnati va bene prova anche con altro cioè sperimentare questa vita è bella perché possiamo starnutire basta finito video notare la maglietta sognando il piano e dietro c'è scritto pollice dentro altrimenti ciao ciao